E' bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video raga Siamo in una nuova vanilla minecraft raga Eccoci qua raga Mi ha aiutato a installarlo minecraft pro gamer raga iscrivetevi al suo canale Senza di lui non potrei mai fare questo video raga E niente raga iniziamo con l'avventura E mamma mia quante cose Ok iniziamo subito raga Se arriviamo a 300 iscritti raga scelgo il vincitore del contest da 5 euro E potete fare quello che volete potete shopparci in qualsiasi gioco raga E iniziamo E prendiamo un po' di legna raga Velocemente veloce 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 Ok Siamo già un minuto Prendiamo questo qua Prendiamo un po' di legna Che ci servirà Raga iscrivetevi al canale E la campanellina delle notifiche raga Lasciate un bel pollicione E scrivete nei commenti Hashtag partecipo Raga in un quaderno già ho scritto Un po' di programmi Che stanno partecipando Tipo pro gamer Diego pro gamer E poi the dark Un po' di pollio Ciao polletto Forse dovrò ammazzarsi Come fa? E ammazza GG Un po' di XP L'abbiamo avuto Un po' di gira Ci li prendiamo Forse serviranno Non so raga Una pecora Per fare il messo Ok Raga Ora usiamo il bellissimo bastone E t'ammazzo T'ammazzo GG E raga E ora dovremo Trovare un po' di pecore Che ne ho visto già uno E tac 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 Ammazza di Gigi Ah Altre pecore bianche GG raga Quante pecore bianche Sto trovando raga Eh no Tu non mi stai Non mi scappi manco Eh raga la carne Devo prenderla Eh andiamo a bastonarlo Scusa 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 C'è un bastonorto Raga ho proprio un po' di lenzia che sono a 30 L'ho visto Ah no Ho pensato che c'era un villaggio Ma no raga Ok Siamo già a 4 minuti Ah un altro pecorello Gigi Ho un po' di zucchero Che ci prendiamo Che fanno comodo C'è una luce con pollo Ok E un po' di zucchetti Ce li siamo fatti Che colletto non mi scappi tutti Raga ditemi nei commenti se volete una serie con pro gamer Se volete raga Non lasciate tantissimi like Se volete che gioco con lo youtuber pro gamer Su minecraft Perché abbiamo la stessa versione Raga Mi aiutate a installarlo Ok Ok E raga Ora facciamoci un po' di legno Ok Quasi uno stacca Tronco di rovere Ok Facciamoci una bella casetta E raga E raga Prima cerchiamo E come si dice Un posto Ben adatto Piano Direi Tipo questo posto Dai raga Ci sta 1 2 3 4 5 6 E facciamo un po' più grande Ok Così Ho sbagliato Ora vediamo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok Una cassa così Ma raga Un po' corta deve essere Un po' piccolina Vabbè raga Ci vediamo dopo E niente Ok raga Finalmente l'ho fatta Un bel pezzo E raga Facciamo un po' di legno Che mi servirà Fare la porta E si sta facendo La porticina L'ho fatta Sì C'è una bella porta qua Ok Entriamo Chiudiamo E gg raga E raga Ci vediamo dopo E dopo la notte Ciao Ok raga è diventato notte Ciao Ci letto E dai è così No raga Ci sono dei mostri E raga E raga E raga Si veda che ci sono No 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 Tu no Tu no E raga Perfetto Perché cavolo Cavolo Raga E raga Uso la terra Ok Ok Sono un po' distanti Ok Vattene Vediamo se ci sono altri mostri Ok Non ci fanno più Gg raga Gg Ok Mi sto un po' bene Ma aspettiamo che lo zombie muore E combattiamo la schiena dai Una bella Abbastanata in faccia O che raga Gg raga E raga Per ora Uso la terra O forse No Dopo che avrò un po' di legna Era Non ho più terra Vabbè raga Ci vediamo Dove fa niente Ok raga Sono ritornato Ho fatto la mia casa di terra E ho preso un po' di legna Da laggiù E raga Ho preso un po' di arboscello Per fare qualche albero Perché non ci voglio andare La A prendere La legna raga E raga Facciamo un po' qua vicino Vediamo Sì raga Ne facciamo qua Una qua E L'altra La faccio La Ok raga Iniziamo raga E faccio la cassa La mia di legno Raga E ci vediamo dopo Ok raga Ultimo blocco Gg raga E facciamoci una bella cassa Per mettere Come si dice I materiali What? Sarai che cosa vuoi Che cos'è? Telaggio Raga Non so Ok Passiamo tutto qua Tutto qua Tac 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 Ok Ok raga Raga Ditemi nei commenti Se la volete Altre video Di questo genere Di Minecraft Vanilla E se la volete Con Come si dice ProGamer92 Volete fare con lui La vanilla Raga Scrivetelo nei commenti È bella